Ciao amore! Ma che bella macchina è tua! Sì, mi piace? L'ho appena rubata! Ma ti sei accorto che c'è una gomma a terra? Ecco dov'era! È da ieri che la cerco, ma è caduta e finalmente l'ho trovata! Intendevo dire che è bucata? Prima si bucava, adesso no ha smesso e ha deciso di disintossicarsi. Ma non ti pare che i tuoi doppi sensi siano scontati? Eh, per forza! L'ho presi con i saldi! Adesso basta! Mi stai mandando il cervello in zitto! È quello che voglio! L'allegra compagnia degli assurdi con i tilt li aspettano al Teatro Fonderia delle Arti in via Sissi 31 il 27 aprile alle ore 21! Esperimento impro assurdo! Da ogni nostro sketch assurdialogico prenderà vita un'improvvisazione teatrale dei tilt! Prenotate i vostri posti chiamando il 339 50 59 380 Vi aspettiamo insieme alla gomma 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 gomma! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti!